Prima all'Hotel Vesuvio con la stampa e poi con la presenza dei calciatori del Napoli in una multisala partenopea, Filmauro ha presentato l'anteprima di Benedetta Follia, il film di e con Carlo Verdone, in sala dall'11 gennaio. E' la settima collaborazione tra Aurelio e Luigi De Laurentiis con l'attore e regista, che nel film è Guglielmo, uomo di specchiata virtù, proprietario di un negozio di articoli religiosi alta moda per vescovi e cardinali. La sua Lidia, devota consorte per 25 anni, decide di mollarlo per la sua commessa proprio nel giorno del loro anniversario. La nuova commessa del negozio, dopo una prima serie di vicissitudini, è Luna, la bravissima Elenia Pastorelli, che lo aiuterà anche nella ricerca della nuova anima gemella nel vorticoso mondo delle app e degli appuntamenti al buio. Ma il valore aggiunto, secondo me, dovrebbe essere il grande affetto che avvolge un po' tutta quanta la storia. Una storia dove l'amore c'è sempre. C'è in maniera un po' eccessiva, comica, con le applicazioni, con gli incontri con queste donne. L'applicazione me la mette lei, la commessa del mio negozio, me la mette nel telefono e mi spinge ad incontrarle. Quella è la parte comica e non si va da nessuna parte. Però poi dopo iniziano invece dei colpi di scena e degli incontri con donne invece di maggior spessore. E quindi la situazione cambia. È un film sulla grande richiesta d'amore che c'è da parte della gente. Di amore vero, di amore sincero, di condivisione di passioni, di condivisione di tante cose. Cose che oggi mancano purtroppo. Ha vissuto questa parte come una sorpresa perché la telefonata in realtà non è arrivata dal regista ma dal produttore. Sì, è arrivata da Aurelio, io stavo facendo la spesa e sinceramente non l'avevo neanche riconosciuto inizialmente. E mi ha detto ti aspettiamo qua, c'è una sorpresa. Io non ho pensato subito a Carlo, avevo pensato magari a un film di Natale, insomma un altro tipo di film. Poi quando sono arrivata in ufficio e ho visto Carlo, Guaglianone, Menotti, mi sono emozionata perché insomma per me sono stata da sempre una grandissima sua fan. E quindi sono cresciuta con i suoi film e quindi per me è stato sicuramente un bel regalo. Grazie! Grazie.